Sperdì 17, siamo alla Galite, il tempo è cambiato completamente, questa notte ha fatto un temporale impressionante, c'erano delle saette che facevano tremalatenda e siamo in attesa dell'autorizzazione per restare un'altra settimana qui. Il tempo è brutto, c'è vento forte, a tratti ci sono degli scroci d'acqua, a volte si vedono degli accenni di trombe marine che però per ora non si sono ancora formati bene e in questo momento il tempo è peggiorato, si sta chiudendo e sta piovendo abbastanza violentemente in mare e probabilmente tra qualche minuto arriverà anche qui, quindi a breve ci chiuderemo dentro la tenda.